Buongiorno, oggi è mercoledì 31 luglio 2024. Vedete quello che sta succedendo soprattutto stanotte che praticamente è stato ucciso il leader di Hamas in Iran oltre che appunto il contrattacco di Israele nel Libero effettuato ieri. Quindi tutto quello che diceva Padre Pio e Luigi Gaspari si sta avverando. Volevo prima di tutto parlare, prima che mi dimentico, di alcuni sacerdoti che continuano a dire ai fedeli che ci salviremo tutti. È vero che quello è il desiderio di Gesù e Maria, ma non è vero che ci salveremo tutti. Questi sacerdoti non credono nell'inferno. Sapete Padre Pio cosa rispondeva a coloro che andavano da lui a dirgli ma io non credo nell'inferno. E beh, ci crederai quando ci finirai dentro. Ecco, questa è la risposta di Padre Pio. Ma questi sacerdoti allora non credono in quello che diceva Gesù quando parla e viene attaccato dal maligno. Non credono in Padre Pio perché il maligno è stato picchiato, praticamente ha avuto a che fare col maligno per ben 50 anni. Picchiato, deriso, insultato. Non credono a Fatima perché i tre pastorelli hanno visto il fuoco dell'inferno. e ha lo stesso Padre Pio che quando morì un sacerdote, lui pregando, 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 questo sacerdote riprese vita e quando tornò in vita disse preferisco un giorno, 70 anni di sofferenza sulla terra che un giorno il purgatorio. Ecco, quindi esiste il purgatorio, esiste l'inferno, esiste il paradiso. Bene, quindi ci crederanno quando ci andranno, come diceva Padre Pio. Ecco, allora, ora vi voglio leggere sempre dalle profezie di Luigi Gaspari che parlava appunto che il periodo, il pericolo più grave arrivava dall'Ira. Vedete, ieri il leader di Amas è stato ucciso proprio in Ira. Sappiamo tutti che l'Ira appoggia Ghezbollah, appoggia Amas e quindi c'è il rischio di una guerra mondiale. Vedete il messaggio? Qui sono alcune conferenze che sono state riprese Questa, vedete, è la chiesa San Francesco, 2 gennaio 91, Gioia del Colle, da una conferenza del dottor Luigi Gaspari. Quindi si parla del 91. Ecco, allora lui dice Ringraziamo Uniti e Padre Pio per averci fatto incontrare qui nella terra di Puglia, da lui e da me tanto amata. Terra che ha conosciuto l'Andiriviri di Santi Imperatori d'Europa che è ancora eletta perché in essa legge lo spirito di questi Santi e questi re che vennero qui a portare il loro spirito d'amore. Padre Pio è nato nel Napoletano vicino a Benevento, scelse per volontà di Dio questa terra di Puglia e precisamente il Gargano per venire a compiere nella pienezza la sua missione di uomo di Dio e profeta dei tempi futuri. Egli amava la Puglia e voleva che noi figli la massimo al pari di lui. Infatti il Gargano ricorda molto la terra dove è nato Gesù, la Palestina. Infatti tutta la Puglia ha qualcosa che ricorda la Terra Santa dove io e molti di voi siamo stati. Oggi in Terra Santa, a cui si parla del 91, in Terra Santa si vive nel terrore di una nuova guerra che porta a distruzione e rovina a tutta l'umanità. E questo spavento tiene sospesi i cuori degli uomini, dei genitori e dei giovani perché questa guerra potrebbe essere la fine per buona parte degli uomini. Noi perciò dobbiamo stringerci uniti e fare tesoro di tutte le ricchezze spirituali che ci ha portato questo grande profeta dell'era futura, il nostro amatissimo Padre Pio da Pietralcina. Voi tutti che siete qui per ascoltarmi certamente amate come me più di me questo santo che è venuto a portare la speranza in un mondo che sembrava perduto nella disperazione e nella perdita di questa speranza. Padre Pio è stato ed è tuttora oggi più che mai la speranza del mondo. Ecco, quindi Padre Pio ancora una volta aveva visto sia Padre Pio che Luigi Gaspari avevano visto giusto. Questo è un tratto dal Padre Pio profeta dell'era dell'amore che dice Gesù ha detto che dobbiamo innanzitutto pentirci dai nostri peccati di presunzione della ragione per poter entrare nel regno di Dio da Lui portato. E non è vero che il Signore perdona tutti. La presuntuosa umana ragione per tentare di evitare il pentimento dice alla Chiesa discutiamo così vedremo insieme chi ha più ragione. La ragione dice che il pentimento cristiano è un condizionamento che impedisce alla ragione dell'uomo di realizzarsi. Vedete ci andiamo tutti in paradiso il Signore perdona tutti. La ragione dice questo. Quindi questi sacerdoti o sono mestiranti o non credono in quello che hanno studiato nelle Sacre Scritture e non credono nella verità Gesù Cristo. Io non credo all'inferno e beh ci crederai quando ci finirai diceva Padre Pio. La Chiesa di Cristo risponderà che le ragioni degli uni possono condizionarle a realizzarsi delle ragioni degli altri. Vedete questi sacerdoti che condizionano il ragionamento di coloro che vogliono salvarsi e perciò solo il pentimento può evitare il reciproco condizionamento delle varie e molte umane ragioni. Il pentimento solamente toglie alla ragione dell'uomo l'orgoglio che è origine di ogni umano condizionamento. E allora che serve discutere? servirebbe solo se la discussione portasse le ragioni a riconoscere che non è utile discutere se prima non si elimina l'orgoglio che è il male della ragione umana. L'uomo non è condizionato dai veri insegnamenti della Chiesa di Cristo Re bensì dall'originale peccato di orgoglio di sua ragione che lo tiene legato e imprigionato tanto da impedirgli il pentimento. indispensabile per conquistare l'umiltà che lo farà vero Signore delle sue passioni ragioni e del creato. Ora volevo leggere anche una lettera dalle lettere del dottor Luigi Gaspari vedete cosa gli chiede padre Pio Luigi Gaspari a padre Pio qui lo scrive in una lettera Bologna 23 febbraio 72 carissimi Giuseppe Raffaele un giorno fu chiesto a padre Pio se è vero che non resterà pietra su pietra il padre così rispose è verissimo tanto vero che non è lontano il giorno vedete e quando diceva appunto ai bambini più grandi di me di 5 anni che avrebbero visto il trionfo del cuore immacolato di Maria questi bambini hanno 70 anni poi soggiunse quelli che resteranno dopo lo scatascio non dovranno sentire nostalgia delle pietre che crollano perché se le rimpiangeranno saranno pietrificati e noi chiedemmo quale tempio il Signore riedificherà in tre giorni il padre rispose i superstiti che non si volteranno indietro a rimpiangere ciò che crolla perché marcio riceveranno l'amore di Dio Santo Spirito che si farà il tempio nei loro cuori salvati il padre disse di avvertire quanto quel tempo era vicino Dio vi aiuti a non voltarvi indietro il giorno è fissato e vi dispongo a fare oggi il vostro tempio del cuore un abbraccio Luigi quindi il trionfo del cuore immacolatissimo è vicinissimo ora dal mio libro Padre Pio il terzo segreto di fare vi voglio solo leggere una lettera che è il direttore della casa sollievo di sofferenza il dottor Kisvard aveva scritto a mia mamma il 22 maggio del 56 gentile signore Adrioli il padre mi ha incaricato di comunicarle che gli prega assiduamente per lei e per i suoi cari e che la benedice tanto di cuore voglio aggradire il mio cordiale saluto Kisvard aede casa sollievo della sofferenza quindi mia mamma conosceva tutti per coloro che dicono o pensano che non fosse una vera spiglia spirituale poi vi voglio leggere ancora dell'apocalisse di Dondolindo Ruotro che adesso non fanno più ecco vi volevo leggere eccolo qua a pagina 296 io ce l'ho a 296 ecco il periodo della predicazione della predicazione che sarà di preparare il regno di Dio al trionfo della chiesa in terra vedete noi dobbiamo preparare l'arrivo del regno di Dio e al trionfo della chiesa in terra culminerà in un libro aperto e non sigillato perché in esso incominceranno a decifrarsi i misteri del regno di Dio sia per la maggiore precisione e chiarezza dell'insegnamento dei dogmi della chiesa sia per la spiegazione più chiara dei misteri nascosti nella sacra scrittura che in tutto il suo complesso mirabile il libro dei misteri di Dio libro grande per i piccoli uomini della terra ma piccolissimo nelle mani dell'angelo questo libro piccolo piccolo anche innanzi al mondo che apprezza solo le sue interminabili serie di volumoni di intellettuali compagnie belle che hanno veramente un'intelligenza superiore al normale ma ricordiamoci che anche l'intelligenza è di quello del piano di sotto perché se l'intelligenza la mettiamo a disposizione della verità di Cristo allora Cristo ne fa un'intelligenza superiore per le cose giuste altrimenti sono per le cose sbagliate delle sue interminabili serie di volumoni più o meno sfissianti reso dolcissimo dell'anima e codice di vita spirituale contrastante con quello animale sarà la base principale della predicazione della verità leggente ai popoli e ai re e produrrà tale rinovellamento nella vita cristiana da potersi oramai misurare e determinare il numero dei veri adoratori di Dio ecco nel decimo capito cosa succede nel decimo l'apocalisse un angelo dà a Giovanni un libricino e gli dice che avrebbe dovuto profetizzare nuovamente a popoli nazioni e re cioè il periodo era il periodo appunto dell'apocalisse che è questo vedete padre Pio disse appunto a Luigi Gaspari che lui aveva lo spirito di Giovanni nel Vangelo di Giovanni in ultimo capitolo Gesù rivolgendosi a Pietro rivolgendosi parlando a Pietro di Giovanni gli disse se voglio che gli viva fino al mio ritorno che importa a te tu seguimi si sparse tra i discepoli la voce che quella posta non sarebbe morto ma Gesù non disse che non sarebbe morto ma se io voglio che gli viva finché io ritorni che importa a te tu seguimi quindi Giovanni lo spirito di Giovanni è ritornato e padre Pio appunto disse a Luigi Gaspari che lui era Giovanni e avrebbe dovuto scrivere questo libricino per la salvezza del mondo questo libricino quaderno dell'amore che vedete addirittura in una foto vedete qui c'è padre Pio Luigi Gaspari insieme che vedete in questa foto fatta da suor Marta Lombardi nel 1995 nella cella vuota di padre Pio e viene fuori padre Pio con un libricino in mano appunto che padre Pio disse che era il quaderno dell'amore libricino descritto nel decimo capitolo dell'apocalisse ecco questo libricino che noi dobbiamo avere tutti per la nostra salvezza e la salvezza del mondo e la chiesa deve tornare nelle mani della chiesa perché ridimenti cibo suo ecco ecco vi leggo io 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 permetterò mai ad alcune di arrestare il vostro cammino per la conquista di coloro che verranno che vorranno seguirvi e ascoltarvi per tale via vedete non è ascoltata nessuna preghiera che non tenda questo fine non è ascoltata nessuna preghiera che non è rivolta alla verità di Cristo al regno di Dio se io prego perché venga la pace ma poi per continuare a peccare a fare tutti i miei comodi perché se viene la pace io posso continuare a rubare posso continuare a comportarmi male posso continuare a peccare posso continuare ad uccidere posso continuare a nascondere la verità no il Signore porterà la pace quando avrà distrutto tutto il male perché ormai ormai ha deciso così come scritto nelle sacre scritture e non è vero che il Signore salverà tutti la Madonna vorrebbe salvare tutti il Signore anche ma purtroppo siamo noi che decidiamo il nostro il nostro futuro e quindi se tu non credi all'inferno ci crederai quando ci finirai dentro ecco allora adesso io volevo ricordarvi il mio libro padre figlio che potete trovare in libreria edizione il segno oppure ordinarlo su Amazzo o su Ebay online poi per quanto riguarda il quaderno dell'amore potete richiederlo via Whatsapp con un messaggio scritto perché non vi risponde nessuno al 371 39 56034 ecco poi troverete tutte le opere di Luigi Gasper Padre Pio il profeta dell'era dell'amore le lettere Padre Pio mi ha detto Padre Pio e l'Islam il quaderno dell'amore potete richiederlo a questo numero di Whatsapp vi saranno spediti a casa con un bollettino postale farete un'offerta libera per quanto riguarda il mio libro invece vi ho già detto in libreria o online il suo mazzo poi ultima cosa sul Archivio Gasperi oppure sul mio canale Telegram Padre Pio e la Nuova Ero o il canale Telegram di Luigi Gasperi che si chiama Luigi Gasperi autore del quaderno dell'amore troverete le conferenze in Archivio Gasperi punto reit anche le conferenze audio del dottor Luigi Gasperi che ha dove ha parlato in quasi tutto il mondo e sentirete veramente la grandezza di quell'uomo che era veramente il profeta Giovanni e il profeta Davide con Padre Pio il profeta Elia e il profeta Giovanni il Battista un abbraccio a tutti che il Signore ci porti alla salvezza nei nei rifugi molto presto perché molto presto come appunto diceva anche Padre Pio in una lettera del Luigi Gasperi che ho appena letto tutto quanto lo scatascio definitivo succederà per portarci il regno d'amore e il trionfo del cuore immacolato di Maria un abbraccio a tutti l'abbraccio a tutti l'abbraccio a tutti